Si intitola Autoritratto ed è il nuovo album del grande Renato Zero. I sorcini in tutta Italia possono gridare alla gran felicità perché è un vero e proprio album dove il grande artista si mette letteralmente a nudo avvisando di fare molta attenzione sia alla rabbia che all'ego. Forse si tratta a mio avviso di un album autobiografico dove il grande cantante romano per eccellenza riparte da se stesso in una maniera piacevole, inidita e garantista dove diciamo così si va a immergere totalmente. La musica è sempre stata la sua grande passione e il grande Renato riesce in qualche modo o barra in qualche maniera a diventare strumento musicale riuscendo ad aggiungere ad una vera e propria bravura, ad una vera e propria capacità che mette nero su bianco attraverso la sua capacità, la sua bravura e il suo grande talento. Nasce quindi Autoritratto, un album di magnifico splendore che sono convinto riuscirà a strappare energie e emozioni in tutti quelli che avranno la possibilità di ascoltare ogni pezzo, ogni singolo di questo album. Iscrivetevi, commentateci.